francesco di giacomo l'indimenticabile voce solista del gruppo banco del mutuo soccorso è morto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi intorno alle 18 si trovava su una strada zagorolo in provincia di roma secondo una prima ricostruzione mentre era a bordo della sua vettura ha avuto un malore ed ha così invaso la corsia opposta scontrandosi con una rover il cui conducente fortunatamente non ha riportato ferite gravi aveva 67 anni e fondato il gruppo nel 1969 e questa sera ad annunciare la sua scomparsa fabio fazio a sanremo lui era il simbolo della band è indimenticabile la sua performance in ogni canzone e in particolare quella di Moby Dick una delle tante che vanno a rappresentare il rock progressivo italiano in tutto il mondo